Andiamo a vedere cosa viene fuori con questi bellissimi accordi in arpeggio. Cercami, anche se io pianto ancora, anche se io ho scelto sempre un po' di fantasia. Abbracciami, come si abbraccia un albero, come si sceglie un missile, come si fa l'amore. Carezzami, anche quando perdo le più preziose ali che possano servire, sai? Quando non pensi neanche un po' a questo grande... Meglio darmelo. Questa canzone è già nell'area, a parte le interruzioni, ma... E ci vuole arrivare con il metodo dell'improvvisazione, quasi come sempre uso per scrivere le canzoni. Quindi nulla, c'ho questi accordi, che mi piacciono un monte. E c'ho anche il tema. Il tema è questa disastrosa e ineguale modo di ripartire la ricchezza in questo mondo. Ovviamente prendo come punto di riferimento gli artisti. Poi si vedrà cosa dice, cosa dirà questa canzone. Non so nemmeno come iniziare, però... Di solito... Da qualche parte bisogna iniziare. Lo sai... Ci sono tanti artisti... Che in questo mondo... Sono anche disgraziati. Lo sai... Che anche questi artisti sudano... Il loro mestiere non conta, però... È vero... Non possono fare altro perché... Questo mondo ha bisogno di musica che... Possa trasformare... La tua nostalgia.